Ciao ragazzi e bentornati su Pensiero Bianconero. Sono giorni strani, sono giorni difficili, sono giorni in cui ci girano i coglioni, però dobbiamo aspettare. Aspettare cosa? Lunedì verosimilmente dovrebbe arrivare la spiegazione di questa penalizzazione inflitta alla Juve di ben 15 punti e forse speriamo di capire di più. Perché speriamo di capire di più? Perché a questo punto io spero che ci siano delle motivazioni che non sono quelle che stanno trapelando per ora, perché altrimenti siamo davanti all'assurdo. Venerdì sera siamo rimasti tutti increduli alla notizia della penalizzazione, perché 15 punti sono tantissimi e perché sembra l'antipasto di qualcosa di più grave. Però ci siamo detti ok, vediamo, perché bisogna avere sempre fiducia nella giustizia. Magari emergeranno nuovi aspetti. Quando però sono arrivate le parole riportate del procuratore Chinè, sinceramente sono rimasto ancora più sbalordito. Perché dico questo? Perché il procuratore Chinè ha parlato di campionati falsati per queste operazioni fatte dalla Juventus, dicendo che innanzitutto la Juventus non si è messa le mani in tasca perché non aveva soldi per fare mercato. Discorso, ragazzi, assurdo. Perché? Perché la Juve ha fatto ricapitalizzazioni per un totale di circa un miliardo di euro, soldi che poi sono andati anche nel mercato, finendo anche nelle casse della Fiorentina, del Sassuolo, del Torino, per esempio. soldi che quindi la Juve ha immesso nel mercato e invece di ringraziare i big club, i top club si attaccano per questo. Che secondo me è un'assurdità. Ma detto ciò, come si fa a dire che queste operazioni hanno falsato un campionato? Perché queste sì e perché altre no? Perché il discorso, ragazzi, purtroppo è uno ed è chiaro. Ed è quello delle intercettazioni. La Juve è intercettata, quindi se hanno, diciamo, le prove che queste plus valenze sono state fatte per sistemare il bilancio, le altre società no. Ma innanzitutto nessuno fa operazioni per peggiorare il bilancio. Spero, perché altrimenti durerebbero mezza giornata e poi fallirebbero. Ma soprattutto, soprattutto, ragazzi, è la legge del mercato. Uno prova a guadagnare di più, prova a migliorare, è un sistema che sicuramente può far schifo. Ma va regolamentato e va migliorato. Se da domani fosse illegale bere vino in Italia, io che ho bevuto vino l'altro ieri non vengo arrestato. Dal giorno dopo sì. E ora arriveremo infatti alle parole del ministro dello sport pronunciate proprio oggi. Perché dico questo? Perché la Juve sta pagando per delle intercettazioni. E allora io vi faccio un altro esempio, sempre sul vino. Quando si è giovani, no? Io riporto questo esempio. Andiamo a fare una gita scolastica e succede che la sera in stanza, tra amici, si beva. Se arriva il professore a sorpresa e vede che siamo tutti ubriachi, che sicuramente c'è chi avrà bevuto il più e chi meno, ma c'è uno che ha una bottiglia in mano e punisse solo quello con la bottiglia in mano, come reagireste? Perché l'esempio è quello. Perché la Juve semplicemente ha la bottiglia in mano delle intercettazioni. Le altre squadre però hanno chiaramente fatto quello. È inutile dilungarci sul caso Simen, su Casa Dei, su tante operazioni. I favori di mercato esistono da anni, da decenni, da quando esiste il calciomercato. Quindi se si vuole cambiare il sistema, prima si regolamenta e poi si passa oltre. E questo discorso non può riguardare la Juventus soprattutto per un motivo. Perché ci sono tante squadre che senza plusvalenze sarebbero fallite. E alcune sono già, sono anche fallite, soprattutto nelle serie minori. Sulla Juventus tu non potrai mai provare che quella squadra, quella società non avrebbe fatto un'ulteriore ricapitalizzazione perché la società i soldi ce li ha. Quindi secondo me sulla Juve questo discorso è ancora più assurdo. La Juve si ritroverà a pagare, come sta succedendo ora, per una cosa che fanno tutti perché semplicemente ha avuto dei dirigenti poco astuti che si sono fatti intercettare parlando di qualsiasi cosa. Ma possiamo, faccio un altro esempio, è come se uno facesse un omicidio ma non può venire arrestato perché non lo becchi lì con la pistola fumante. Non ha senso questo discorso, è un sistema che va così. Perché la Juve la plusvalenza le fa con altre squadre. E perché quella plusvalenza fatta da una squadra che magari ne fa meno o perché poi c'è chi magari ne fa di più e chi meno, chi vi dice che quell'operazione non falsi un campionato? Cioè, dove sta scritto? Per falsare un campionato basterebbe un giocatore pagato 500.000 euro che fa un intervento pulito e ti permette di pareggiare una partita invece che perderla. E allora è campionato falsato anche quello. Accuse secondo me ridicole. Ne parleremo anche nei prossimi giorni però le parole che poi racchiudono un po' tutto sono quelle del ministro dello sport oggi. Innanzitutto dice bisogna avere le motivazioni perché comunque chi ha preso queste decisioni deve spiegare perché le ha prese. Poi dice giustamente c'è una responsabilità politica di cambiare le regole nel rispetto dell'autonomia dello sport perché fenomeni degenerativi vengono limitati. Perché, ripeto, è vero che può far schifo questo sistema plusvalenza ma va regolamentato. Non puoi punire prima di regolamentarlo. E quando si dice noi vogliamo comunque che lo sport sia trasparente, efficiente, dignitoso e punti alla credibilità e alla reputazione e quello che sta succedendo contribuisce a questi obiettivi è la verità. Perché si deve essere più trasparenti e noi tifosi vogliamo sapere. Perché noi tifosi siamo la Juventus. Noi che stiamo qui a fare video, noi che proviamo a creare contenuti, chi va allo stadio, il bambino che sogna di diventare un calciatore della Juve. Quella è la Juventus e merita spiegazioni. Non merita un accanimento che quello che si è creato negli ultimi mesi anche per colpe della Juve. Perché questo sentimento popolare di Juve colpevole si è autoalimentato quando la Juve non si è difesa. La Juve si sta iniziando a difendere solo ora ma è troppo tardi. È troppo tardi perché lo doveva fare già da prima. Ora il sentimento popolare perché non tutti si informano come me o come voi. È che la Juve ruba. È che la Juve di nuovo si trova a essere la squadra peggiore d'Italia. È che la Juve fa fare figuracce al mondo. Noi questa cosa non la accettiamo. Vogliamo delle spiegazioni e vogliamo che si indaghi nello stesso modo su tutte le squadre. Perché concludo dicendovi questo. Un discorso è la giustizia che riguarda le singole persone. Paratici, Agnelli, Nedved eccetera eccetera. Una cosa è che queste indagini nascono forse anche perché la Juve è quotata in borsa e quindi più controllata eccetera eccetera. Ma quello non è l'ambito sportivo. Nell'ambito sportivo penalizzazioni eccetera eccetera devono essere uguali per tutti e devono avere indagini che siano uguali per tutti. E l'appello va anche alla FIGC, alla Lega Serie A che non stanno capendo che stanno distruggendo un sistema. Invece di provare a sistemare tutto, invece di provare a risollevare un calcio che fa sempre più schifo, lo stanno affossando definitivamente. E io proprio dalla procura della FIGC mi aspetterei parità di trattamento. Indagate la Juve, sì perché chi sbaglia deve pagare. Ma indagate tutti gli altri. E dimostrate perché è sbagliato ad esempio fare plusvalenza. E regolamentate come non farle. Perché la vostra proposta quando la Juve fu assolta era quella di basarsi sui dati e sui valori di mercato di Transfer Market. E ricorderete bene, chi non lo sa, ve lo dico, che anche il capo di Transfer Market aveva commentato questa proposta come una grandissima cazzata. Se siamo in mano a questi, il calcio crollerà. E quindi anche i tifosi avversari dico, oggi festeggiate perché vi piace così, ma davanti alla giustizia bisogna essere non tifosi, bisogna essere oggettivi. Ora festeggiate, ma il calcio sta morendo. Noi ci riaggiorniamo e perdonatemi per questo piccolo sfogo, spero di essermi spiegato in parte. Perché poi non è facile parlare di queste cose, non è facile essere semplici e diretti nello spiegarlo. Perché poi il bello è anche che queste dinamiche le possano capire tutti, anche chi magari, come me, che mi sono informato, ma come chi non conosce diciamo benissimo la materia giuridica, ecco è giusto che lo rendiamo più fruibile a tutti come discorso. Spero di essere stato abbastanza chiaro, commentate, fateci sapere e presto ovviamente quando arriveranno altre novità pubblicheremo altri video e vi promettiamo una diretta breve anche con esperti in materia. Lasciate un'iscrizione, lasciate un like al video se vi è piaciuto e forza Juve sempre, perché la Juve siamo noi. Ciao ragazzi.